Dopo Polonia e Ungheria, anche la Slovacchia ha deciso di vietare le importazioni agricole dall'Ucraina per proteggersi dall'afflusso massiccio di cereali che sta distorcendo il mercato nazionale, abbassando i prezzi a discapito dei produttori locali. In diversi paesi dell'Europa centro-orientale, infatti, agricoltori e commercianti protestano da settimane per la riduzione significativa dei loro guadagni. La Commissione europea, però, afferma che i divieti unilaterali di importazione sono inammissibili. La politica europea è di competenza esclusiva, che significa che è a livello europeo che queste decisioni possono essere ottenute e per questo ciò che abbiamo detto che unilaterali non è possibile sotto la politica europea. C'è una sospensione di tutti i prodotti, questo è qualcosa che abbiamo proposto fino a junio questo anno e ora abbiamo a tavola un nuovo proposto di continuare questa sospensione. Molti prodotti ucraini vengono importati oggi negli stati dell'Unione senza dazi doganali, una decisione presa per sostenere l'economia del paese durante la guerra. Bruxelles ha anche previsto un piano specifico chiamato Solidarity Lanes per aggirare il blocco dei porti ucraini e agevolare l'esportazione dei cereali in Africa e in Medio Oriente. E proprio fuori dall'Europa dovrebbe finire anche il grano ucraino, secondo l'associazione che difende gli interessi degli agricoltori del continente. All'inizio di marzo l'Unione Europea ha stanziato 56 milioni di euro a sostegno del comparto agricolo in tre stati membri, Polonia, Romania e Bulgaria. Il prossimo passo sarà un nuovo pacchetto di assistenza finanziaria per la regione, che la Commissione annuncerà nelle prossime settimane. Grazie.